Dopo l'incidente accaduto ieri mattina presso il cantiere del mercato coperto di Teramo, il primo cittadino Gian Guido d'Alberto ha immediatamente convocato per questa mattina una riunione d'urgenza del coordinamento tecnico. Vuole vederci chiaro l'amministrazione comunale, ribadendo tramite le parole del neoassessore ai lavori pubblici Marco Di Marcantonio come la sicurezza sia fondamentale per tutelare lavoratori e cittadini. Intanto un accadimento gravissimo che solo il fatto ci porta a considerare come una sciagura per fortuna mancata. Abbiamo convocato tutte le parti in causa, la direzione dei lavori ha serrato ulteriormente le fila richiamando tutti ad un ulteriore massimo senso di responsabilità e a tenersi in maniera pedisseco a quelli che sono i protocolli di lavorazione e di realizzazione in questi casi. L'intenzione è quella del Comune di essere ancora più stringente sotto questo punto di vista? Tecnoscavi che è impresa subappaltatrice. Ripeto, quando si verificano fatti di questa portata è evidente che qualche falla nel protocollo delle lavorazioni probabilmente c'è. non ci lasciamo andare al qualunquismo del può capitare, non è nostra intenzione, anzi non deve capitare e assolutamente vigileremo perché ciò non accada. È una lavorazione che presenta una serie di complessità per l'ubicazione, per i ridotti spazi, per le condizioni date, ma insomma tutto considerato in fase progettuale e tutto sicuramente visto prima di partire per cui sicuramente l'attenzione è massima non solo su quel cantiere ma anche su tutti i cantieri che insistono sul nostro territorio comunale.